Musica Applausi Applausi Cos'hanno in comune gli uragani e il partenone? Le galassie e i girasoli, i movimenti delle nostre dita e la venere di Milo, la cappella Sistina e i nostri passi. E' la bellezza delle loro proporzioni, tutte legate ad un unico piccolo numero. Voi avete un numero favorito? Io sono Marco Iosa e oggi vi parlerò di un numero particolare, un numero irrazionale, fatto di infinite cifre decimali che non hanno alcun ordine tra di loro. Ma questo è un numero che dà ordine e armonia alle cose. E' un numero che ha appassionato Fidi e terrorizzato Pitagora, incuriosito Euclide e ispirato a Leonardo da Vinci. E' nascosto negli affreschi di Michelangelo e ha fatto innamorare Keplero. Si dice che siano stati pitagorici per primi a scoprire i numeri razionali, ma che Pitagora abbia voluto tenerli nascosti. Per loro i numeri erano il mattone fondamentale che metteva ordine nell'universo. La scoperta di numeri con infinite cifre decimali che non presentano alcun ordine metteva in crisi la loro filosofia. La loro fede nei numeri, quasi come se la matematica per loro fosse una religione. Quei numeri oggi noi li chiamiamo irrazionali. Quale sia stato il primo numero irrazionale ad essere scoperto? Non lo sappiamo. Forse la radice di 2, la diagonale di un quadrato di lato 1, oppure pi greco, oppure la proporzione fra la diagonale e il lato del pentagono. Quella diagonale, quando si fanno tutte le diagonali, si forma il pentagramma. Quel pentagramma era proprio il simbolo dei pitagorici. Quella proporzione, noi oggi la chiamiamo con tanti nomi, sezione aurea, proporzione divina, o semplicemente fi, da figlia, l'architetto che un secolo dopo i pitagorici utilizzò quel numero come proporzione tra base e altezza della facciata del partenone. La sezione aurea ce la descrive anche Euclide, l'autore degli elementi, il libro più ristampato nella storia dell'umanità, insieme alla Bibbia. Ma ce ne parla come soluzione di un altro problema geometrico, quello di tagliare un segmento in modo che la proporzione tra la parte lunga e quella corta sia la stessa che vi è tra l'intero segmento e la parte lunga. Ebbene, tale soluzione è proprio la sezione aurea. Ma già prima, e così anche dopo Euclide, la sezione aurea diverrà simbolo dell'armonia, anche perché verrà ritrovata, non sappiamo da chi, come proporzione delle dimensioni umane tra statura e altezza da terra dell'ombelico. Non ci credete? Prendete un metro e misuratevi. Quel rapporto è proprio circa pari a 1,618, la sezione aurea appunto. Gli artisti costruiranno il doriforo, i bronzi di riace, tutti in sezione aurea, la venere di Milo, la venere di Botticelli, la venere nera, ah no, quella l'ha fatta benissimo la natura, e la proporzione è sempre quella, l'attizione aurea. Di recente è stato scoperto che anche la creazione di Adamo di Michelangelo rispetta questa proporzione. Luca Pacioli, un frate matematico del Medioevo, vide in questo numero, formato da tre parti, l'intero, la parte lunga e la parte corta, quindi uno e trino, questo numero perfettamente armonico, infinito nelle sue cifre e incommensurabile per l'intelletto umano, la prova dell'esistenza di Dio, e pubblicò un libro su di esso chiamato De Divina Proporzione. I disegni geometrici che voleva rappresentare, però, erano veramente complessi. Per fortuna lui aveva un amico molto bravo a disegnare, un amico che di nome faceva Leonardo. Il cognome neanche ve lo dico, vi dico il paese da cui veniva, Da Vinci. Leonardo illustrò quel libro e inserì la sezione aurea anche in molte altre sue opere, come ad esempio L'Uomo Vitruviano. Un secolo dopo, Keplero, alla ricerca di un'armonia dietro le cose del mondo, uno che applicando le regole della musica scoprì come si muovono i pianeti sopra le nostre teste e scrisse un libro intitolato Harmonices Mundi, scoprì che la sezione aurea è anche il limite a cui tende il rapporto tra due numeri consecutivi della successione di Fibonacci, via via che questi vanno aumentando. Da allora la sezione aurea è stata ritrovata anche in tantissime strutture naturali. Questo anche grazie al suo legame con la successione di Fibonacci scoperto da Keplero, il suo legame con la spirale aurea, quella che si ottiene da successivi rettangoli aurei, nonché con i frattali, che sono delle strutture geometriche autosimilari che riprendono questa proprietà di avere il piccolo in proporzione con il grande e con questa proporzione che si ripete a diversi livelli. Ad esempio è stato scoperto che la lunghezza delle falangi delle nostre dita segue le proporzioni della successione di Fibonacci e questo consente alla mano di chiudersi perfettamente in un pugno proprio secondo una spirale aurea. Anche le nostre orecchie ricalcolano la forma della spirale aurea, questo per ottimizzare l'entrata delle onde sonore. E anche il falco, quando attacca, spesso lo fa con un movimento a spirale sulla preda, questo per mantenere lo sguardo fisso sul suo obiettivo. Infine, nel mio lavoro di ricercatore alla Fondazione Santa Lucia ho scoperto che anche i nostri passi, quelli del cammino umano, sono in sezione aurea, il rapporto tra il tempo in cui il piede è a contatto con il suolo e quello in cui avanza in aria, è proprio pari alla sezione aurea e questo genera una struttura armonica di tutto il nostro cammino che si ripete uguale tra le diverse fasi e i diversi passi. Se questo mio breve racconto vi è piaciuto, vi è intrigato, sappiate che c'è molto molto altro da sapere sulla sezione aurea. Grazie di essere stati con me in questo breve riassunto che va dal cammino della scienza alla scienza del cammino e se vi va, buona lettura. Grazie. 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 Grazie.